Ciao Giorgio, ecco, mi stanno uscendo adesso tutti i tifosi della Fiorentina, volevo sapere un po' che clima c'è, soprattutto... Provaci, non sarà facile. Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace. Vai, non te la prendere, non te la prendere. Bene. Non te la prendere. Allora, che sconfitta è stata? La sconfitta di un... No, eh, no.